Questa è l'attesa suonagli Ciao Oggi è festa alla denna e io sono qui nel mio studio in tranquillità a lavorare sul pasto della città di Gerusalemme e mi dicevo intanto che lavoro, vado avanti, lavoro e ho finito qualcosa, una cosa curiosa è che non sapere che cosa vuoi dire in specifico Lo voglio far vedere con la tenda di una scena del film che verrà fatto, sul quale solo stiamo lavorando Questa è la tenda suonagli della casa di una prostituta che è nella sceneggiatura del primo racconto del Vangelo secondo me Il primo racconto è scritto da Terbacco Utilizzo questo tendaggio che non è ancora finito per fare due chiacchiere con... Perché faccio due chiacchiere? Perché... E il lavoro che sta facendo mi porta... e... 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 e anche in atto la... e... 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 dentro di me insieme al mio respiro quando ho fatto il tuo respiro adesso... e... 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 Anche in questo sentimento, sento che mi permette di avere una vita buona sui pazienti, lontanze non vengono. Mi accompagno da vivere gli altri. E sono un momento che in questo momento non siamo arrivati a una fase del gioco umano. Si sa che siamo schiavi, si sa che siamo schiavi. Oggi, molte persone che ci sono belle altre, poche hanno fatto due cose, dicando che noi siamo schiavi. Quando abbiamo schiavi, di cui non c'è neanche la considerazione che avevano gli antichi romani con foto di schiavi che avevano una volta, che avevano un patrimonio importante, che lo trattavano bene. Oggi, non c'è neanche quella cosa, noi siamo schiavi e basta. dovevano essere esprimuti, trattati, tenuti incatenati ai voleri, no? Di alcune persone che non sono in grado di percepirsi come esseri umani. Ma... ed è l'antica storia anche tra... della lotta tra bene e male, no? Quindi c'è per me una volta, ultimamente, accaderemo a ricordare la storia di curiosità che conoscevano anche altre persone, però ho dei stagioni in modo così... corposo. perché alla fine, tutto è difficile da fare, al fine, tutto è difficile da fare. Well, I know people have to go, people are already going, people are going. Just remember, wherever you go and whatever you do, se non perdiate qualsiasi cosa facciate remember to feed the good wolf ricordatevi tra il tuo cuore and peace is inside of you no matter what una pace dentro di voi qualsiasi cosa accade and this is your life e questa è la vostra vita FULFILLIT realizzatela non voglio entrare nella storia di un buon o un buon cattivo perché... voglio restare nel... che cosa sto facendo io Quell'acqua che ti disseta nella vita mia mi sono veramente riso conto che è quella sensazione di pace no? pace è proprio umana che non ha bisogno di fare rituali che non ha bisogno di fare niente per fortuna di Dio, per grazia di Dio per percepire la pace non devi fare niente nient'altro che ascoltarti ascoltarti, no? ascoltarti le situazioni, le comprensioni eccetera ma tu in tutto questo casino hai sempre bisogno di sentirti amato e di amare no? forte e protettiva noi che cerchiamo sempre la protezione di personaggi importanti, potenti mafiosi, delinquenti, proteggimi no? io quella cosa lì la faccio nei confronti della pace per me la pace è il mafioso perfetto che funziona, che mi ama, che... che gli sono caro io a lui, a questo potere gli sono caro e se solo lo degno io di uno sguardo di un po' di tempo per stare con lui, no? non perché lui è solo ma perché io ho bisogno di questa compagnia eccellente che avviene comunque tutti i giorni, no? quasi comunque di meno tutti i giorni quando dormi quando dormi e tu non ti ricordi di essere in coma e il corpo comincia a lavorare molto più di quando tu sei attivo in quel momento tu vai dove c'è solo lui e questo ti ricarica per tornare qua e raffrontare un altro giorno in un mondo che suona assurdo perché siamo fuori dalla nostra natura noi non viviamo la vita in questo incredibile sketch che è la vita terrestre per come siamo costruiti approfondire questa pace di cui io sono cioè di questo stare bene perché la parola pace è molto fraintendibile, no? la pace è sentirsi bene sentirsi a posto come quando sei innamorati ripeto, no? hai quei momenti dove ti senti a posto i sensi sono placati eccetera e tu stai lì a riposo insieme alla persona che ami e lei percepisce la stessa cosa quella è la sensazione di sentirsi bene, no? nel cuore dico perché poi hai fame hai di cibo eccetera quella è un'altra cosa però puoi mangiare il cibo che vuoi ma quella sete di amore l'essere abbracciati e abbracciare essere speciali per qualcuno di speciale che ti ama quella sete lì è una sete che finché tu non la esaudissi cercherai sempre qualche cosa cercherai sempre qualcosa perché sei in cerca di appagamento e lo stress è il grado di misurazione di quanto sei lontano lo stress è la risultanza tra quello che vuole il tuo cuore e quello che ti dice di fare la tua mente e tu sei nel mezzo tirato, no? e dici ma io voglio stare col mio amore, no? sì maturo aspetta aspetta non avere fretta più avanti e mi sei fregato se ci credi se ci credi sei fregato perché la vita non è mai più avanti è sempre adesso incarnata nel tuo respiro nel presente quanto è lungo il presente? direi hai già passato non è impossibile misurare il presente il tuo respiro il mio respiro misura il presente e quando lo faccio mi spattacco perché è un godimento quando respiri così senza rendetene conto che va bene la vita, no? ha una certa lunghezza quando invece sei lì per i fatti tuoi, no? e corteggi te stesso il tuo respiro te in compagnia di te flirti, no? con te stesso ti godi dello stare con te eccetera, no? e vuoi sentire la divinità che entra dentro attraverso il respiro, no? e prendi questo respiro e mi riempio di vita e poi posso andare via tutto ecco la vita io la vita che mi è stata data l'ho spesa se non viene un altro respiro è finita lì viene su un altro respiro mi dice un respiro lo è che sia un respiro niente per come arriva si propone di un'eleganza di una leggerezza di una discrezionalità non fa suoni di annunciazione, no? potrebbe farli porta qualcosa di importante la vita, no? potrebbe dire annunciamo la barilla annunciamo le guerre intelligenti annunciamo la democrazia che se non ci fosse la vita non esisterebbero meriterebbe essere annunciato anche il respiro ebbene lui non vuole essere annunciato non ha bisogno di quella cosa lui è lui è lui è lui è una comprensione che continua in me ad aumentare io vedo sempre di più quanto è elegante sottile intelligente protettivo che ti protegge se tu vuoi andare verso più star bene con te stesso lui ti mette le protezioni perché tu faccia quella cosa lì non ti mette le protezioni a meno a meno non mi ha messo le protezioni per diventare ricco famoso basta già hai messo quelle qua perché in salute finora da quando sono nato sono da ringraziare grazie ringrazio ringrazio mi ha messo in salute che può finire può finire mi trovo una leucemia e allora cos'è è stato tra l'interno finale no ma la sono goduta fino in fondo perché se mi dicono che va una leucemia sono convinto che approfondirò ancora di più d'attaccarmi a quella pace perché è lì che vado ancora di più in maniera chiara no? ecco adesso non so vorrei dire anche tante altre cose c'è l'ultima cosa l'ultima cosa che voglio dire è questa lo dico con il è questa adesso adesso ci sono due tipi di persone chi si rende conto di essere schiavo e chi non si rende conto di essere schiavo i peggiori schiavi sono quelli che non si rendono conto di essere schiavi e pensano di non essermi quelli sono messi in male la parte che sa di essere schiava non sa come muoversi per liberarsi perché da qualsiasi punto di vista lo vedi non puoi uscire dalla regnatela che ti hanno fatto non puoi uscire dalla loro regnatela l'unica possibilità che noi abbiamo è usare la realtà la realtà ha sempre fornito il mezzo per arrivare a dissetarti se tu veramente se tu veramente hai voglia di dissetarti di essere vero se tu hai veramente non qui perché parole eeeh dentro si può essere anche analfabeta non è neanche riuscire a parlare nessuna lingua neanche il dialetto ma è quella sete che tu vuoi tu trovi e è la protezione che ti tiene dentro voglio dire cosa che mi dico sempre ma non c'è me che la soluzione per liberarsi c'è c'è se siete già soddisfatti se tu sei già soddisfatto se tu sei già soddisfatto tu che hai visto che è un casino no di difenderti con le cose che hai trovato perfetto perfetto ce ne fossero no persone così se vuoi aggiungere qualche cosa sappi che si può aggiungere una facilità assoluta assoluta l'iniziare l'iniziare a liberarci subito da quel momento lì e imparare poi come fare a trattenere trattenere quella compagnia perché decidiamo sempre per noi se stare con questa compagnia o lasciarla lui non ci lascia mai se no non ci darei i respiri perché è tutto attaccato lui non ci lascia mai noi lo lasciamo con le nostre ingenuità che ascoltiamo ascoltiamo questa boccina che è dentro che è molto 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 nascosta che ci fa credere di essere in noi le cose che ci dice per il nostro bene e invece no perché il cuore sa cos'è il nostro bene il cuore differenzialmente non parla mai non dice una parola ma senti tu senti quando la cosa va bene o non va bene e sentire una cosa del genere e seguirla è di una facilità unica non devi neanche sapere un linguaggio in un certo senso va bene sono convinto di aver detto qualche cazzata di averci messo il mio ego sicuramente però non avrà il mio sì il mio ego per aumentare l'affermazione di se stesso quell'ego stupido quell'ego fatto di di niente perché da qui me ne vado sono arrivato da buio come un puntino ho avuto su questo palcoscenio con la possibilità di fare tante belle cose e me ne vado e di me nessuno avrà più ricordo forse qualche parente all'inizio forse qualche scultura che posso aver lasciato ma un giorno tutto andrà via per cui il punto è cosa hai fatto no il punto è come hai vissuto quel film che hai visto è chiaro che il film finisce quando vai in sala cinematografica comincia vedi il film al secondo punto il film finisce il problema non è che il film è finito il punto è il film che hai visto ti ha preso ti ha dato qualcosa ti ha commosso ti ha detto qualcosa di te ti è stato utile per crescere per assaporare il dono che tu sei vivo e in questo momento ti consigli puoi sentirti uno più l'infinito cioè una cosa che non può esistere vabbè niente così saluto a tutti un bacio adesso vado a vedere che Kenzo è combinato no volevo dare un bacio all'obiettivo ma no no non ce n'è bisogno mi siete un po' patacca ma come si dice gli artisti fanno quello che possono ciao però respiro sì non 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 Grazie.